buonasera vedo che gli amici iniziano a connettersi benvenuti una volta ancora all'edizione online duemilaventi della fiera delle parole da questa sera quasi non interrottamente fino al trenta di giugno assisteremo ad una serie di eventi incontri di battiti con autori molto amati e soprattutto molto letti dal grande pubblico solo per fare alcuni nomi eh Mario Tozzi Corrado Augas Francesco Buccini troverete il calendario completo sulla pagina contato tra la prima degli Stati Uniti d'America eh questa sera presenta il suo ultimo libro Oriente Occidente Massa e Individuo in dialogo con Niccolò Menniti Ippolito che tra l'altro accenderei eccoci buonasera Niccolò Menniti Ippolito e quindi in diretta da New York quest'oggi abbiamo Federico Rampini Buonasera Federico Rampini Buonasera buonasera a tutti Buonasera Mi permetto prima di far iniziare la diretta di ma di allegare anche i saluti dell'attore Jacopo Rampini che è stato ospite anche lui della fiera delle parole eh un po' di tempo fa Ciao Jacopo Eccoci Detto questo Il figlio abita un cinquanta strade da qui come si misurano gli isolati e quindi eh viviamo nella stessa città ma a piedi è un'ora e quarantacinque minuti in metro eh non si può dire perché non lo usiamo più da qualche tempo il metro Buona diretta buona serata Ecco allora benvenuti intanto vedete appunto Federico Rampini è tornato alla fiera delle parole purtroppo non eh non di persona è rimasto confinato a a New York ehm e eh e però è uscito il suo nuovo libro che si intitola Oriente Occidente e di questo parliamo questa sera Oriente Occidente già nel titolo racchiude molto di quello che il libro eh dice e cioè è un confronto eh fra Oriente Occidente tra il mondo occidentale e mondo orientale ma soprattutto sull'immagine che ha l'Occidente dell'Oriente e un po' meno ma anche quell'immagine che ha eh l'Oriente dell'Occidente eh ma il presupposto del libro è che l'immagine è già molto è già realtà l'immagine che noi abbiamo dell'Oriente è già un pezzo dell'Oriente è già realtà un confronto che eh dura da eh moltissimi da moltissimi secoli che nel racconto di Rampini parte dal confronto fra i greci e i eh persiani come quasi eh immagine iniziale di un confronto che tuttora comincia e poi arriva gli ultimi giorni arriva al anche alla pandemia al a a questo ultimo incontro scontro se vogliamo tra Occidente e Oriente perché il libro racconta come l'andamento è stato molto antalenante ci sono stati momenti di incontro ci sono stati momenti di scontro ci sono alcuni personaggi che cercheremo di ripercorrere brevemente in questa conversazione che hanno segnato questo eh questo rapporto spesso i capitoli sono basati su dicotomie proprio a cominciare da quella del sottotitolo massa e individuo eh e allora volevo chiedere proprio a Federico Rampini se questa struttura quasi dicotomica del rapporto oriente occidente è reale oppure è proprio frutto dell'immagine reciproca che abbiamo che abbiamo costruito. Grazie della bella domanda un bel modo di partire per raccontarvi eh questa sera un libro che è prima di tutto un libro di storia che parte almeno da duemila seicento anni fa questo questo arco di tempo significa partire dall'epoca in cui Confucio e il buddismo nascono Confucio in Cina il buddismo in India e si affacciano già sul Mediterraneo e quindi comincia è già fortissima nel quinto secolo avanti Cristo un'influenza orientale su di noi sul pensiero greco in particolare. Ah ogni tanto mi spingo ancora più indietro perché devo pur tenere conto che secondo i cinesi la loro civiltà è ancora più antica ha probabilmente quattromila cinquecento anni di storia il che subito ci mette in uno stato di soggezione di inferiorità e quindi comincio subito per risponderti sul tema della dicotomia in realtà questo binomio eh di poli opposti che ogni tanto si incontrano si influenzano si seducono si amano oppure si odiano si scontrano si combattono e si conquistano ogni tanto eh eh è chiaro nel mio libro che ce lo siamo inventato noi cioè abbiamo voluto noi europei darci una specie di eh eguaglianza metterci sullo stesso piano di un insieme che è molto più grande di noi cioè questo binomio in realtà è profondamente squilibrato ed è chiaro in tutta la storia del mio libro da duemilaseicento anni in qua che eh l'Oriente è e ci sovrasta da tutti i punti di vista geograficamente eh l'Europa quasi non esiste una piccola guardate un mappamondo una carta è una piccola propagine di quella massa terrestre sconfinata che è il continente eurasiatico dal punto di vista della popolazione ce n'è sempre stata molta più là che qua eh che qua dove siete voi ecco ah ecco faccio vi approfitto per fare una parentesi oggi oggi quando usiamo il termine occidente gli diamo un significato geopolitico contemporaneo che include gli Stati Uniti d'America ovviamente ehm però per la maggior parte del tempo di cui mi occupo Oriente e Occidente erano Europa e Asia eh la sproporzione ehm è anche storica appunto la storia dell'Asia è talmente più lunga più antica della nostra e quindi c'è questo questo senso di inferiorità che ci ha sempre un po' perseguitati no? E tant'è che loro di solito hanno invaso noi poi solo negli ultimi tre quattro secoli di storia i rapporti di forze si sono invertiti noi siamo andati là a conquistarli a colonizzarli loro eh si sono innamorati di una certa idea di occidente ci hanno studiato ci hanno copiato e oggi una parte della modernità asiatica è chiaramente un'imitazione dell'Occidente però ricordiamoci ricordiamoci perché questo ci serve anche a vivere con più lucidità e con forse con più serenità questo nuovo secolo asiatico in cui siamo entrati ricordiamoci che nel corso della grande storia della lunga storia è sempre stato normale che l'Oriente fosse il centro di tutto e noi eravamo una piccola cosa ai margini tant'è che per commentare anche il senso del eh tu hai ricordato i greci contro i persiani e il sottotitolo del libro che è Massa Individuo proprio per curarsi questo complesso di inferiorità i greci quando affrontano i persiani nelle guerre che ci racconta il fondatore della disciplina storica Erodoto si creano questa prima rappresentazione fortissima che ci ha sempre accompagnato da allora l'Oriente è gigantesco è un luogo di grandi masse esterminate dominate da autocrati imperatori che sono dei semidei e quindi è il luogo del dispotismo questo termine poi lo verrà rielaborato continuamente per esempio nell'ottocento da un pensatore come Karl Marx che scriverà molto di dispotismo orientale e in fondo è un concetto che noi usiamo anche magari con parole diverse quando cerchiamo di interpretare la Cina di oggi e un personaggio come Xi Jinping eh Massa Individuo i greci si si vedevano come pochi però con una fortissima individualità mentre dall'altra parte combattevano con con un esercito di di semi schiavi o di semi automi c'è la leggenda leggenda in parte verità dei diecimila soldati dell'imperatore persiano che erano interscambiabili se morivano quei diecimila c'erano altri diecimila identici come dei cloni che li potevano sostituire tutte queste in parte verità storiche in parte leggende fanno parte di come noi ci siamo rappresentati l'Oriente ed è molto importante ricostruire narrare è divertente perché è una storia piena di sorprese come l'Oriente e l'Occidente si sono raccontati a vicenda ed è una storia che ci serve anche a capire meglio il mondo in cui stiamo entrando sì in qualche modo è un prequel dei tuoi libri nel senso che va alle radici no di di molte delle cose che poi hai raccontato in questi anni viaggiando e a cavallo fra i due mondi perché appunto tu come giornalista sei stato molto in Asia e sei stato molto nel cuore dell'Occidente cioè e cioè New York la cosa che volevo domandarti è riguardo alcuni di questi personaggi che si incontrano nel tuo nel tuo libro alcuni personaggi anche molto sottovalutati tu dici da 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 padre Ricci no che in qualche modo è il simbolo dell'incontro ecco proprio in Ricci cioè un uomo che ha capito molto che l'incontro era possibile che ha capito che il sincretismo poteva essere come dire una un modo di far dialogare le decimità sembra una lezione persa una lezione che in qualche modo ha attraversato l'Occidente poi si è si è persa è un po così sì faccio due premesse veloci su su questo straordinario personaggio che è Matteo Ricci gesuita di macerata che ci ha rivelato della Cina tante cose importanti dunque intanto vorrei solo dire io non mi sono improvvisato professore di storia questo è un libro che naturalmente attinge ai miei viaggi e la mia vita tra l'Asia e l'Occidente ma attinge soprattutto a biblioteche di libri e di grandi autori che io ho saccheggiato ve li dico tutti cioè questo questo è un libro dove tutte le mie fonti sono chiare tutti i grandi autori meravigliosi autori del passato antico o recente sono tutti elencati in modo che potete vedere quali sono le mie fonti. La seconda cosa la vicenda di Matteo Ricci sarebbe impossibile senza un altro italiano Marco Polo Marco Polo è anche a suo modo pur essendo famosissimo essendo stato letto nel mondo intero senza Marco Polo possiamo dire non ci sarebbe l'America no? Cristoforo Colombo decide di partire alla ricerca dell'India lui è convinto l'India la Cina il Giappone e poi scopre l'America si sbatte contro l'America perché ha letto Marco Polo perché è rimasto completamente affascinato dalle ricchezze dell'estremo oriente raccontate da Marco Polo quindi c'è questo antecedente no? Matteo Ricci arriva due secoli dopo arriva e anche questa è una premessa importante con una doppia missione quella di andare a evangelizzare i cinesi a portare il cristianesimo a fare proselitismo ma c'è dietro anche una sorta di agenda diplomatica cioè teniamo presente che per noi c'è sempre stato un oriente vicino che era il primo impatto con l'Asia la Persia per i e poi per molta molta parte della storia fino ad oggi l'oriente vicino significa Islam cioè da maometto in poi tutto un pezzo di Asia viene conquistato dalla religione musulmana e questo diventa un tramite importante anche tanti rapporti che noi abbiamo nei secoli passati con l'India con la Cina vengono mediati da una serie di nazioni di popoli di civiltà di poteri di imperi che stanno lì in mezzo e che sono musulmani l'Europa cristiana ai tempi di Matteo Ricci spera di trovare in Cina una superpotenza con cui diventare alleati contro l'Islam contro i sultani e questo è interessante perché c'è questa articolazione anche della geografia delle religioni che è importantissima in questi secoli di storia comunque l'altra cosa straordinaria di padre Matteo Ricci è che è uno scienziato lui va in Cina forte di conoscenze scientifiche di altissimo livello è un grande matematico e rimane esterrefatto di fronte al livello scientifico dei cinesi ecco uno questo fa parte di quella narrazione storica che ho messo dentro il mio libro di tutta quella lunga epoca in cui loro erano più avanti di noi e la storia della scoperta dell'estremo oriente è una storia di sorprese anche un po' sconvolgenti da Marco Polo in poi fino agli filosofi dell'illuminismo francese Voltaire e Montesquieu noi abbiamo degli shock e dei complessi di inferiorità cioè andiamo là e scopriamo che sono più avanti di noi sono più ricchi sono più sofisticati hanno conoscenze superiori Matteo Ricci è questo genio che fa da ponte tra le due culture perché lui ci prova a evangelizzare i cinesi con dei risultati modesti ma al tempo stesso traduce Confucio in latino per noi cioè proprio cerca di essere un canale di comunicazione fa delle operazioni meravigliose per lo più in comprese come tutti i grandi geni anche Matteo Ricci non è stato apprezzato per tutto quello che avrebbe potuto darci ecco all'opposto c'è l'idea dello scontro di civiltà anche se tu appunto chiarisci che poi un libro famoso appunto scontro di civiltà di Huntington è stato in qualche modo anche travisato in realtà non è però l'immagine dello scontro di civiltà a cominciare da greci contro persiani è sempre stato costante e tuttavia leggendo il tuo libro ci si accorge che per esempio anche quando parlavi dell'islam poi l'islam è come dire stato a lungo nemico dell'occidente ma è stato ancora più a lungo nemico dell'estremo dell'estremo oriente quindi in realtà spesso le nostre visioni sono appunto anche quando parliamo qualcun'immagine scontro di civiltà sono un po' confuse forse effettivamente. Beh in nessun'altra parte del mondo forse il tema dello scontro di civiltà è così vivo è così attuale come in Asia sì il libro di Huntington è un bellissimo libro che consiglio di leggere non fermarsi al titolo fu travisato come se Huntington fosse stato il teorico di George Bush dell'invasione dell'Iraq della nuova crociata contro l'islam invece la sua è una visione molto più complessa e molto interessante comunque se uno guarda i veri scontri di civiltà tra le grandi religioni solo marginalmente Islam contro cristianesimo intanto perché l'Europa anche in questo è un po' periferica rispetto alla vera strategia dell'islam che era l'espansione in Asia in Africa è là dove hanno conquistato più territori e più anime poi perché tutto sommato cristianesimo Islam sono due religioni abramitiche con lo stesso ceppo monoteiste hanno tante cose in comune mentre invece lo shock vero culturale valoriale è con l'induismo e con il buddismo e non a caso oggi i luoghi dove lo scontro reale si sta svolgendo in Cina dove Xi Jinping tiene un milione di uiguri musulmani in campi di rieducazione e in India dove c'è l'ennesima puntata di quest'eterna lotta tra induisti e musulmani che avveniva già ai tempi degli imperatori mogul quindi non è una cosa recente e noi centriamo pochissimo tra l'altro il ruolo dell'occidente in queste vicende è marginale però voglio solo aggiungere una cosa scusa prima di concludendo su questa tua domanda il libro Oriente Occidente in questi questa carrellata di racconti su 2600 anni di storia non è solo un libro di conflitti e di tensione c'è anche tanto amore perché ci sono stati degli innamoramenti incredibili tra noi e loro nei due sensi di solito reciproci e poi c'è tutto il tema dell'amore in senso stretto cioè la rappresentazione della donna del sesso dell'erotismo che è una parte enorme dello scambio di idee e di immaginario tra Oriente e Occidente basta basta pensare proprio il punto di partenza di nuovo nell'antica Grecia e anche qui io mi mi ispiro a delle grandissime autrici Lidia Storoni Mazzolani grande studiosa dell'antichità classica italiana Camille Paglia una femminista americana che è una donna di straordinaria cultura che hanno scritto delle cose eccezionali su due temi Elena di Troia la donna che viene rapita ufficialmente in realtà una relazione extra coniugale lascia l'Occidente va in Oriente in Asia minore a Troia come se l'Oriente fosse un luogo di maggiore libertà di libertà sessuale e è quello che ha scritto Camille Paglia molto interessante sul culto di Dioniso noi abbiamo una Grecia Apollinea che è il mondo della della razionalità e abbiamo una Grecia Dionisiaca che in realtà è la Grecia influenzata dall'Asia e l'Asia è femmina il culto di Dioniso è un culto che soprattutto per le donne rappresenta le famose baccanti le feste baccanali rappresenta un momento di liberazione di da ogni freno inibitorio attraverso la musica la danza l'alcol e le droghe c'è un'energia sessuale che si sprigiona in questi cerimoniali che sono anche delle feste delle feste orogiastiche che è un'energia molto femminile e che viene molto dall'Asia e tutto questo poi ci porta lontano io arrivo fino allo shock culturale dell'Inghilterra vittoriana e puritana quando scopre il Kamasutra indiano le statue delle dee induiste con un erotismo scatenato nei templi nei templi indiani ma sono alcuni dei capitoli in cui racconto non solo lo scontro ma anche la fusione l'influenza reciproca l'attrazione la seduzione reciproca tra questi due mondi ecco è uno degli elementi fortemente seduttivi per l'occidente specialmente negli ultimi 200 anni sono le religioni come dire non monoteiste in senso proprio cioè appunto il buddismo in particolare poi alcune pratiche come lo yoga forse meno il confucianesimo il taoismo ma in qualche modo in maniera indiretta anche questi sono arrivati tu cerchi di raccontare anche cosa cerca l'occidente in in questo oriente che ha esercitato una enorme enorme fascinazione ma ancora più sorprendente è quando racconti in qualche modo anche come l'oriente ha accettato alcune cose del dell'occidente per esempio tu racconti che oggi come dire il neopuritanesimo indiano è probabilmente derivato non dalla tradizione indiana ma probabilmente dalla tradizione inglese quindi come dire con con un andare venire continuo che che ha quasi invertito le parti a un certo punto nel nelle cose ecco volevo chiederti su questo tu poi concentri molto sulla guerra dell'oppio cioè sul momento forse in cui l'europa ha è stata più colpevole nei confronti della della cina il momento che poi ha riflesso questa nostra immagine della cina come terzo mondo ecco tu credo ricostruisci bene il fatto che l'altro che terzo mondo voglio dire la cina è sempre stato il primo forse mondo e però noi per un certo momento ci siamo illusi è una cosa terribile quella che ti racconti sulla guerra dell'oppio una forse la maggiore colpa dell'occidente nei confronti dell'estremo oriente sì ti rispondo nell'ordine partendo dall'inizio della tua domanda ma sì in questi in questi 2600 anni di storia che racconto c'è un continuo susseguirsi di sorprese di rovesciamenti di posizioni di scambi anche di posizioni in cui l'idea che ci facciamo gli uni degli altri è cambiata tante volte e quella a cui tu hai fatto riferimento all'inizio della tua domanda cioè l'oriente come sorgente di tutta la spiritualità in parte è già vera al all'origine della nostra civiltà noi ci definiamo greco romani come patrimonio culturale delle origini ma qualche volta ci definiamo dicono i noi italiani europei ci definiamo anche parte di una civiltà giudaico cristiana e qui c'è una contraddizione molto forte perché mentre greco romani vuol dire occidente la tradizione giudaico cristiana viene da oriente il israele lasciamo stare le alleanze geopolitiche con l'occidente israele sta definitivamente in asia minore e la religione cristiana quando si affaccia nella roma antica prima di tutto viene percepita come una delle tante sette orientali che arrivavano a roma perché ce ne erano state tante e i filosofi presocratici avevano assorbito influenze dal taoismo avevano assorbito influenze da filosofie orientali dall'india tutto questo perché poi la ritroviamo questa storia nell'ottocento quando noi siamo diventati momentaneamente un capitolo finale recente ma piuttosto importante per noi perché ha lasciato un segno forte nella nostra memoria siamo diventati noi i più forti ottocento vuol dire la rivoluzione industriale vuol dire che noi militarmente abbiamo delle tecnologie più avanzate siamo capaci pur essendo molto piccoli l'inghilterra è un'isoletta del nord europa sperduta tra le brume riesce a conquistare l'india che è un gigante in confronto poi andremo anche a disturbare la cina a incrostarci soprattutto sulle città costiere della cina ma in quel periodo succede in casa nostra una sorta di rivolta contro la modernità e c'è tutto un movimento culturale soprattutto nel romanticismo tedesco che rifiuta il progresso la tecnica l'industria il materialismo e va fugge verso oriente in cerca dei veri valori dell'anima e quindi abbiamo questa questa storia importantissima che unisce i più grandi poeti romantici tedeschi e poi fino a richard wagner il compositore che diventa buddista schopenhauer e questi via via influenceranno poi herman hesse siddhartha di s che a sua volta influencerà la gioventù americana degli anni 60 in california i beatles il viaggio in india è una storia importante però relativamente recente quella in cui noi andiamo là a cercare i valori dello spirito perché su tutti i valori materiali invece ci consideriamo decisamente più avanzati questo periodo è quello delle guerre dell'oppio qui l'inghilterra si si impone con la sua potenza militare obbliga la cina ad aprire le sue frontiere perché possa praticare il narcotraffico vendere oppio ai cinesi e così compensare nella bilancia dei pagamenti tutto quello che pagavano per comprare tè e seta dalla cina e è una vicenda vergognosa la racconto negli aspetti più minuti tipo il saccheggio del palazzo d'inverno alla periferia di pechino che era una meraviglia del patrimonio culturale dell'umanità un misto tra versailles e venezia un luogo di una bellezza straordinaria distrutto dagli europei una spedizione militare punitiva tutto questo lo racconto perché noi ce lo siamo dimenticati i bambini cinesi lo studiano a scuola e questo spiega anche una volontà di rivincita un vero e proprio revancismo dei cinesi nei nostri confronti cioè lo dicono spesso è xi jinping lo dice che vuole cancellare il secolo delle umiliazioni quello quello è stato per loro e comunque il secolo delle umiliazioni ha voluto dire anche che tante classi dirigenti asiatiche hanno deciso in quel momento che bisognava studiare l'occidente copiarlo cercare di raggiungerlo quelli che ci sono riusciti prima di tutti e meglio di tutti sono stati giapponesi giappone è un paese che bisogna studiare molto bene è interessantissimo il giappone nella seconda metà di dell'ottocento fa quella che si chiama la restaurazione meiji è una restaurazione politica ma in realtà è una rivoluzione della modernità copiano la prussia dal punto di vista militare copiano l'inghilterra dal punto di vista industriale diventano una superpotenza al punto da sconfiggere una potenza bianca europea come la russia perché hanno assorbito tutto il meglio dall'occidente pur conservando una una loro cultura per esempio confuciana molto forte o la religione scintoista molto importante tutto questo ci porta ai miracoli asiatici più recenti che sono fatti anche di assorbimento di modelli occidentali senza dubbio ecco una delle cose che si constate molto bene è come ormai anche il mondo asiatico sia percorso da un nazionalismo sempre più esasperato non solo come dire la cina ma anche l'india e addirittura anche il giappone sembra ritornare su strade nazionalistiche ecco devo chiederti se se questo in qualche modo sta accomunando occidente e oriente in questo in questo momento sì io però proprio perché racconto 2600 anni di storia invito a non non lasciarsi ingannare dalle apparenze nazionalismo che esiste in questo momento in cina e in giappone e ragione in india è però come uno strato sottile recente che loro hanno incollato su una realtà molto più profonda mi riferisco a questo il nazionalismo è un'invenzione europea dell'ottocento poco dopo la rivoluzione francese comincia la grande ventata dei nazionalismi in tutta Europa è è stato adottato con un modello politico anche da tante classi dirigenti asiatiche ma e non da oggi è gandhi pacifista non violento però era un grande nazionalista indiano studiava giuseppe mazzini studiava uno dei grandi autori del risorgimento italiano mazzini era molto letto in india i tempi di gandhi quello che quindi il nazionalismo è una invenzione dell'Europa e gli asiatici se ne sono impadronita come di tante altre cose come delle nostre tecnologie hanno preso anche il nazionalismo però lo hanno innestato su un'idea che è molto più antica e più profonda cioè è proprio quella che di cui parla anche samuel huntington nel suo libro l'idea di civiltà cioè per i cinesi esiste una continuità della civiltà cinese che risale a 4.500 anni fa molto ma molto prima che il concetto di nazione spuntasse all'orizzonte il concetto di nazione poi è stato usato ampiamente già da Mao Zedong adesso da Xi Jinping ma per loro c'è qualcosa di più importante che precede che spiega anche un'identità dei cinesi che è più forte ancora della nostra perché loro vedono una vera continuità anche se si sono susseguite delle dinastie imperiali molto diverse alcune addirittura di origine straniera nella loro storia i cinesi sono stati dominati da dinastie che venivano da un ceppo etnico mongolo dalla manciuria quindi non sono sempre stati i cinesi han che il ceppo etnico dominante però per loro la civiltà è una sola da 4.500 anni e quest'idea di civiltà è molto forte anche in India l'India come nazione intanto è molto federalista per cui il Kerala è diversissimo dal Rajasthan dal Punjab dal West Bengal hanno lingue diverse in India c'è un centinaio di lingue non c'è una lingua nazionale lo Hindi non è la lingua nazionale degli indiani i Bengali non lo vogliono parlare e nel sud si parla Tamil no e poi ci sono due India anche dal punto di vista della storia antica c'è l'India del sanscrito e c'è l'India d'avridica però la civiltà indiana è una cosa molto più antica della nazione indiana quindi questi sono il Giappone si è impadronito ovviamente del nazionalismo è stato di un nazionalismo feroce quando ha voluto tra virgolette liberare l'Asia dei colonialisti bianchi perché se ne voleva diventare lui il Giappone padrone dell'interasia si è spinto tutta la C quasi tutta la Cina invaso e poi giù giù è arrivato fino in Indocina, Birmania, Singapore però anche nel Giappone l'idea di civiltà è perfino più forte dell'idea di nazione. Allora abbiamo una domanda dal pubblico e quindi la dovremmo vedere adesso di Andrea Nicolai grazie per l'interessante diretta stiamo andando così come c'è un sentimento di rivalsa da parte cinese dovuto anche alla guerra dell'Opria ad esempio questo è presente anche in India e come? Sì è presente anche in India ma non tanto nei confronti dell'Occidente quanto nei confronti dell'Islam. L'India oggi che sta adottando sotto questo premier Narendra Modi che è un fondamentalista hindu sta adottando delle leggi molto controverse molto discutibili che rischiano di privare di diritti una parte degli immigrati musulmani venuti dal Bangladesh prima che ci fosse la scissione. Comunque l'India si percepisce come assediata da paesi ostili di religione islamica che sono prima di tutto il Pakistan che ha la bomba atomica come l'India e anche in parte Bangladesh che non è così ostile come il Pakistan però dentro il Bangladesh ci sono anche gruppi terroristici c'è la piaga sempre aperta del Kashmir. Per l'India questi sono i punti dolenti questi sono i problemi ed è una storia antica di secoli su cui il passaggio del colonialismo inglese ha lasciato meno tracce di quanto crediamo noi. Noi vogliamo sempre un po' essere l'ombelico del mondo no? Noi bianchi europei crediamo che il nostro ruolo al centro della storia sia fondamentale e quindi c'è chi è arrivato addirittura a teorizzare che in fondo in due musulmani si odiano per colpa degli inglesi che li hanno aizzati gli uni contro gli altri. Questo è ridicolo nella storia purtroppo l'induismo e l'islam hanno avuto degli scontri feroci sanguinosi secoli prima che arrivassero gli inglesi ed è una storia che continua a riaffiorare e a riemergere. Io per quello ho deciso di dedicare un pezzo della mia vita alla storia antica perché davvero tante cose che noi crediamo siano del tempo presente hanno delle radici antichissime. Ecco come ultima domanda ti arriviamo invece proprio al presente presente. Allora tu hai vissuto le due esperienze, sei stato a lungo in New York, ecco volevamo un tuo parere su questo conflitto in atto fra Stati Uniti e Cina, che soluzioni intravedi possibili se si arriverà realmente come dire a una nuova guerra fredda oppure se si tratta di schermaglie perché l'utile è stare insieme. Non si tratta purtroppo di schermaglie, la guerra fredda c'è già, ci siamo dentro, questo era il titolo del mio penultimo libro che era più sull'attualità geopolitica e non vedo schiarite in vista a breve termine e perfino se qui negli Stati Uniti il 3 novembre dovesse vincere l'elezione presidenziale Joe Biden, il democratico, io non sono affatto convinto che le cose miglioreranno perché anche la sinistra americana, anche il partito democratico ha cambiato molto il suo giudizio sulla Cina, è diventato molto più ostile. Ecco in questo libro Oriente e Occidente si possono anche trovare delle chiavi antiche di interpretazione del conflitto presente perché certi scontri valoriali ce li portiamo dietro da molte generazioni, da secoli perché c'è anche un ruolo della pandemia nell'accelerare una resa dei conti e questo anche è accaduto nella storia tante volte, le pandemie a cominciare da una delle prime che è stata studiata con attenzione è la pandemia Antonina che accelerò la fine dell'impero romano, sono spesso state delle calamità che hanno rappresentato degli esami senza appello per interi imperi, civiltà, grandi nazioni e alcuni ne uscivano vincitori, altri ne uscivano indeboliti, sconfitti, stremati, senza più energie. Quindi una pandemia può accelerare il corso della storia, io credo che eravamo già in una fase in cui il centro del mondo si stava spostando di nuovo verso l'Asia, laddove era stato per gran parte della storia umana e l'impressione oggi è che anche questo test tremendo del coronavirus ha rafforzato delle tendenze precedenti, che non significa che io creda nella narrazione della propaganda cinese sul fatto che loro hanno vinto. Anzi, se c'è un messaggio del mio libro Oriente Occidente, a cui tengo molto, è quello che di Oriente non ce n'è uno solo e le differenze al loro interno sono enormi e queste differenze diventeranno ancora più evidenti man mano che la Cina diventa più forte. Una Cina troppo potente spaventa prima di tutto i suoi vicini immediati, quelli che il Giappone, la Corea e tanti altri, il Vietnam e l'India e quindi è lì che dobbiamo anche esercitare la nostra attenzione, la nostra curiosità intellettuale per capire che dinamiche conflittuali diventeranno ancora più prepotenti con un secolo asiatico. Ecco c'è dal pubblico un'altra curiosità che mi sembra molto opportuna e cioè un tuo sguardo da New York sui fatti di questi giorni, cioè sull' uccisione di Floyd e sulle manifestazioni e in qualche modo se questo aiuterà i democratici oppure finirà per aiutare in realtà Trump. Certo, è doveroso parlare anche di questo perché è una tragedia americana e io ci sono in mezzo. Prima di chiedersi se questo moto così vasto di ribellione dell'America che da due settimane, da due settimane riempie le piazze per protestare contro la morte assurda o scena proprio di George Floyd ad opera di Poliziotti Bianchi, prima di chiedersi se avrà delle conseguenze politiche sull'elezione, io mi voglio chiedere se avrà finalmente delle conseguenze sulla condizione degli afroamericani, perché il primo e vero dramma da risolvere è quello, cioè riuscire a cominciare a sanare questa piaga del razzismo che è così forte anche dentro le forze dell'ordine, il comportamento della polizia ne ha già generate troppe di queste tragedie, George Floyd è solo l'ultimo, prima di lui, io ne ricordo tantissime che ho seguito anche qui negli Stati Uniti sotto Barack Obama dove andavo a Ferguson nel Missouri, andavo a Baltimore a raccontarvi purtroppo, a raccontare ai miei lettori tante proteste, tante manifestazioni dopo che erano stati uccisi anche là dei neri ad opera della polizia, c'è una lunga scia di sangue, di abusi, di violenze, di ingiustizie, qualche volta sono state commesse anche delle ingiustizie dall'altra parte, ancora una settimana fa nel corso delle proteste ci sono stati dei saccheggi, delle violenze controproducenti, per fortuna è durato poco, questi episodi di saccheggio nelle grandi città americane sono stati un paio di serate e poi ha ripreso il sopravvento alla parte pacifica, non violenta di queste manifestazioni. Poi la piaga del razzismo che fa parte della storia americana, perché la storia dello schiarismo è ancora in mezzo a noi, è un passato che non passa, è un segno molto forte nella società americana, in alcune zone d'America più che in altre, ma insomma c'è tutto il tema delle diseguaglianze sociali ed economiche che affligge la parte afroamericana della popolazione e tutto questo, cioè la specificità degli Stati Uniti non deve farci dimenticare che il razzismo esiste anche altrove, che le minoranze etniche in Cina non sono trattate meglio, là sono tibetani, sono uiguri, sono mongoli, sono delle minoranze oppresse. Ecco, per riportare questo discorso così grave e così tragico nell'alveo del tema Oriente-Occidente, una cosa che mi sento di riscattare dell'Occidente, di riconoscere come un valore dell'Occidente è una capacità autocritica che non tutte le civiltà hanno avuto. Voglio dire che qui abbiamo praticato, qui negli Stati Uniti è stato praticato lo schiavismo, ma c'è stato anche un movimento dell'abolizionismo. Nella storia i più grandi mercanti di schiavi, intermediari mercanti di schiavi sono stati gli arabi, che le grandi potenze arabe hanno per secoli e secoli fatto soldi trafficando merce umana. Non c'è all'interno di quella parte di Oriente, vicino Oriente per chi sta nel Mediterraneo, non c'è una capacità autocritica così pronunciata come c'è stata in Occidente. Così come non c'è autocritica in Cina su come loro trattano le loro minoranze etniche. Abbiamo un'ultimissima domanda del pubblico che sta arrivando, di Nadia Guidetti. Ringraziamo Nadia. Il cambio di atteggiamento della sinistra americana è collegato alla svolta di Xi, che ha portato per una specie di potere monarquico, sono altre ragioni. Non solo questo, cioè non c'è dubbio che il carattere sempre più autocratico, autoritario di Xi Jinping ha spaventato, ha allarmato la sinistra americana, ma non è fino ad arrivare ai fatti più recenti di Hong Kong, tanto per fare un esempio un abuso evidente, questa decisione di calpestare l'autonomia e lo stato di diritto di Hong Kong per imporre delle leggi di uno stato di polizia. Però nella revisione della sinistra americana, prima ancora, era intervenuto un altro fattore, cioè l'idea che questa Cina è stata capace di avvantaggiarsi del commercio globale sostanzialmente barando al gioco, cioè con un scarso rispetto delle regole, scarsissima reciprocità, cioè mentre il mercato americano era molto aperto ai cinesi, il mercato cinese era molto chiuso, furto di proprietà intellettuale, insomma tante pratiche illecite della Cina che sono venute a galla, che hanno colpito duramente una fascia popolare degli Stati Uniti, cioè la classe operaia, questo tra l'altro è anche il fattore che spiega l'elezione di Trump nel 2016, pezzi di classe operaia impoveriti in America, dallo smantellamento dell'industria manifatturiera, delocalizzata in Cina, ecco a un certo momento i democratici erano entrati a far parte di un establishment, di un patto luciferino, demoniaco con le grandi multinazionali americane che in Cina avevano fatto dei buoni affari o con l'alta finanza che in Cina aveva fatto dei buoni affari, la Goldman Sachs, come conseguenza dello shock di Trump del 2016, i democratici forse hanno prestato un po' più attenzione alla classe operaia e al prezzo che aveva pagato la classe operaia americana per una globalizzazione dove i veri vincitori stavano dall'altra parte dell'Oceano Pacifico. Benissimo, noi ringraziamo molto tutti quelli che ci hanno ascoltato, ringraziamo Federico Rampini di questo incontro, chiudiamo qui e anche Davide. Eccoci, mi riaccendo, grazie infinite Nicolò, grazie infinite Federico Rampini, la vastità dei contenuti di questa sera siamo andati da Elena di Troia a George Floyd, le abbiamo viste veramente tutte, approfitto della vostra presenza, vi uso per invitare tutti gli amici della Ferra delle Parole ad assistere anche ai prossimi incontri che faremo, in particolare i prossimi due, quello di domani sera con Matteo Bussola che presenta il suo nuovo romanzo intervistato da Paolo Di Palo e mercoledì con Mario Tozzi che ci parlerà del nostro pianeta che credo sia una cosa importante. Grazie ancora Federico Rampini. Grazie, grazie a voi. Grazie a averci. Buonanotte.